Nel frattempo Turumani invece vi dà a Dina Dina, come Torina, e ci dici questo è il curriculum della mia sorella, senza quella non firma il contratto, io a te un voto, un turugno. Anche questa cosa di Nino o Dina, io ciurisco, vedi che a me non si può muovere di qua. A me pure ciurisiste. Ma tutti e due, che c'è? Se tu vici a capire, a me non ha votato, ma non ci sono problemi, si firma e bacia. Onorevole Dino. A che punto siamo, a generale? Tutto a forza, dico si lavora. Ma quelle cose non mi dai novità di mia sorella e di Anna? Ma anche se sono pronto, se proprio queste cose cominciamo.